Quarti di finale serie E Si sfidano a Cimarron Contro Paris Saint-Gennaro Entrambe le squadre vogliono fortemente Il passaggio del turno Lo dimostrano subito Iacimarron Cimmino per Canitano Ed è 1-0 lasciato colpevolmente solo sul secondo palo E' un brutto inizio per i Paris Saint-Gennaro Cappa bianca da fuori Sfiora il gol con un tiro deviato Si svegliano finalmente gli ospiti Lombardi lanciato in porta Demena para Lo stesso Lombardi poi sfortunato Colpisce il palo Canitano dall'altra parte è ispiratissimo Qua da fuori aria impegna Libraro Ancora Lombardi lanciato in porta Salto un uomo Demena attentissimo Ma il miracolo il portiere lo fa L'azione successiva Lombardi lanciato in porta Demena para E questo porta Due minuti dopo Alla grandissima azione di Canitano Supera tutti Salta il portiere Deposita in porta Per il gol del 2-0 Che mette in discesa dopo 10 minuti La partita per la Cimarron Potrebbero riaprire PSG Demena regala la palla a Marino Che però conclude Camerosamente a lato Di là Canitano per Cimmino Benissimo Libraro Demena si fa perdonare Con un grandissimo lancio E Canitano mette giù Supera l'uomo fortunosamente Ma conclude a lato I due ad avanti Si trovano benissimo Canitano per Cimmino Para Libraro Marino poi impegna Così Demena E sul calcio Lombardi Tira di testa fuori Ma come ho detto Quei due ad avanti Fanno paura Cimmino per Canitano Questa volta Ed è 3-0 Tripletta personale Per il numero 9 Degli Acci Maroni La partita Sembra chiusa Ma Benucci non ci sta Qui Grande pallone per D'Acunto Che però Poteva giocarsela diversamente Dall'altro lato Canitano Nasconde la palla a Sepe Attentissimo però Libraro I PSG Devono avere un episodio Per riaprire il match Forse ce l'hanno D'Acunto Palla deviata Sbatte sul palo Arriva Lombardi Calcia a furi Che ne c'è tempo Soltanto nel finale di tempo Per la parata di Libraro Su Canitano E di De Mena Su Benucci Attaccano a testa bassa PSG Come in questa occasione Palla recuperata In coda e Benucci Ma così facendo Si espongono a contropiede K bianca per Canitano Destro di poco a lato Ma è solo il peludio Al gol del 4-0 Che arriva K bianca per Canitano Dribbling e destro Sotto l'incrocio Del numero 9 Di Acci Maroni Che cala il poker E di fatto Chiude match E qualificazione Non possono far altro Che provarci Quelli di Paris Saint Germain Qui K bianca Perde un brutto pallone Lombardi lanciato a rete Colpisce di poco a lato Le ultime iniziative Sono tir da lontano Come in questo caso A conto Grandissimo adesso Para De Mena Altrettanto lodevole L'iniziativa di Benucci Grandissimo dribbling Conclusione però sfortunata Da rivedere E riapprezzare La giocata del numero 7 Gli ultimi scampoli di partita Vedono da un lato A conto Cercare ragione Prima col sinistro E poi sempre da fuori Stavolta col destro Dall'alto a provarci E K bianca Che qui recupera un pallone Ma conclude sul palo Poi lui stesso Batte questo calcio di punizione Parato da Librato Siamo con tutti i ragazzi Degli Acci Maron Con Canitano migliore in campo Qualificazione ottenuta Chi vuole parlare Capitano Commenti su questa partita Su come avete giocato Sì sì È stata una grande partita Oh grande Grande Credete nella vittoria finale Adesso Sì sì Speriamo Sicuramente Vincolo Non ho capito Ci sta qualche squadra Che vorreste evitare Oppure vi ritenete Non avete poca di nessuno Ne battono Ne battono Nettamente Va bene ragazzi In bocca al lupo Ciao Giuliana Ciao Giuliana E anche Reggio Una brutta volta Ciao Giuliana